Allora siamo con il maestro Andrea Morricone, allora maestro una sua valutazione della giornata, della presentazione del libro Ma ho trovato decisamente emozionante l'intervento dell'avvocato e straordinaria la presentazione dei relatori Certamente l'argomento del diritto d'autore è un argomento molto molto esteso e suscita grande interesse Bene, e in particolare quale argomento le ha suscitato? Mi è piaciuto molto il fatto che la questione del diritto d'autore oggi si declina con i mezzi della comunicazione che sono propri del nostro tempo Quindi il rapporto anche con internet, la diffusione dei file su internet, Spotify, eccetera Tutte le diverse connotazioni che ha adesso la tecnologia del nostro tempo